Bel tentativo, Snake! Liquid! Sei ancora vivo! Sei così sciocco! Solo perché hai distrutto il Metal Gear non significa che sono stato sconfitto! Dov'è Meryl? Oh, intendi quella ridicola donna che ami? È legata a degli esplosivi! Meryl! Ma che bella coppietta! Ne ho abbastanza! Torniamo a noi, Snake! Meryl! Esattamente! Ma prima del nostro scontro c'è qualcosa di cui dovremmo parlare, fratello! Vedi, Snake! Io e te siamo stati creati a quel tempo, noi... Meryl! Sì! Meryl! Beh, forse una piccola spiegazione ti può chiarire le idee! 2008! L'America si ritrova a fronteggiare un grande cambiamento! Ma... Meryl! Sì... Ok... Comunque... Dopo la morte di nostro padre, Big Boss, un nuovo progetto stava per... Meryl! Non puoi negare la tua eredità, fratello! Ma che... Meryl! Ma dove... Dove sei? Meryl! Basta! Meryl! Meryl! Ho detto basta! Meryl? Lasciami finire la mia fottuta frase! Grazie! Ora... Cosa stavo dicendo? Oh sì! Guarda! Ho i geni recessivi! Ok... Basta così! Affrontami, Slake! Stai zitto! Zitto! Ho detto zitto! Cosa? Perché? Perché fai questo? Tu sei pazzo! Meryl! 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 Aaaaaah! Meryl! Meryl! Nooo! Ma! 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 Meryl, ma che... Sai Snake, non sono stata onesta con te. Meryl, anch'io. Va tutto bene. Cosa? Colonnello? Sta diventando ridicolo. Sì? Lo so, hai ragione. Ma che... Ehi là, ciao ragazzi. Io sono Matthew Shazman, il creatore di questo cartone animato che avete appena visto e che spero vi sia piaciuto. Volevo fare i miei complimenti al canale Ravetube per aver coinvolto per questo ridoppiaggio in italiano il mitico Andrea Piovan, doppiatore originale di Liquid Snake. Se volete dare un'occhiata ad altri cartoni animati fatti da me, trovate il link al mio canale nella descrizione del video. Ciao ciao! E allora ragazzi, valorizziamo lo straordinario lavoro di Matthew Shazman condividendo il video e facendolo arrivare ovunque. Ma anche la grande disponibilità di Andrea Piovan, che seppur preso da mille impegni, perché ricordiamo che è la voce di Mediaset ed è un grande professionista, ha comunque scelto di aiutarci e di creare qualcosa di figo. Quindi grazie Andrea, ti voglio dire... Grazie fratello! Mi raccomando, riprendi gli altri video con i doppiatori originali di Metal Gear. E noi ci vediamo al prossimo! Grazie a tutti!